Non siamo più prigionieri del nostro DNA. Con l'aiuto della mappatura ipigenetica, possiamo sapere quale sia l'influenza dell'ambiente sulla nostra espressione genica. L'espressione dei nostri geni varia a seconda di una moltitudine di elementi ambientali che non alterano il nostro codice DNA. Una dieta nutrizionale bilanciata, l'esercizio fisico e gli inquinanti ambientali sono alcune delle cause che influenzano la nostra espressione genica. Tutti siamo in grado di ottimizzare l'espressione genica scoprendo i nostri fattori di stress epigenetici unici. Cell Wellbeing Drive tecnologico digitalizza l'epigenetica personale. Le informazioni ricavate da alcuni capelli insieme ai loro bulbi piliferi sono collegate tramite server sicuri dove si trovano 800 marcatori epigenetici. Dopodiché, un report molto accurato segnala le tue intolleranze alimentari, i potenziali squilibri nutrizionali, le cariche tossiche e le influenze elettromagnetiche. Per saperne di più, chiedi al tuo professionista del benessere.